presidente vorrei partire da una domanda personale che cosa ha provato quando è stato letto il biglietto di nomina di papa francesco e soprattutto i ricordi le persone a cui è andato legati al suo ministero sacerdotale e da pastore beh è stato come un anche perché nessuno poteva aspettarsi che papa francesco rispondesse nel giro di mezz'ora quattro ore non saprei quanto tempo è passato tra la fine delle votazioni e poi dopo l'arrivo della risposta di papa francesco e che cosa ho pensato ho avuto poco tempo perché carina passetti con molta amabilità con molta familiarità è dovuta prendere per mano per portarmi e quindi quello che ho pensato ho pensato così a alla chiesa e che dobbiamo amare tantissimo in un momento come questo per tutti anche quindi per la chiesa e che qualcosa che così evidentemente che si spiega soltanto con la grazia di dio per cui che certamente se utilizza gli scarsi mezzi miei e che riempie tutti quanti la grazia la grazia di dio troveremo poi le risposte di risposte giuste ecco le risposte perché questa la chiesa possa essere una madre per tutti in un momento così difficile per tutta l'umanità e anche per il nostro paese la sua nomina è stata salutata con grande entusiasmo dentro e fuori la chiesa ed accompagnata anche da attese di rinnovamento ecco come ha vissuto questa accoglienza e come intende declinare questa consapevole degli evidenti limiti l'entusiasmo non è tanto nei miei confronti quanto nei confronti della chiesa credo che un entusiasmo e soprattutto direi un attesa e questo mi e ci richiede sia tutti quanti vescovi ma alla chiesa quindi a tutti quanti coloro che la vivono la sentono come responsabilità e come servizio che questo è di rispondere a questa attesa di capirla di interpretarla soprattutto di rispondere qualche volta eccediamo delle interpretazioni e non rispondiamo passiamo sempre interpretare e c'è poco da interpretare una grandissima attesa di vicinanza di senso di speranza di passione di sentirci vicino alla sofferenza della vita di quello che noi dobbiamo fare ieri ha incontrato il papa pur nella come dire comprensibile riservatezza che cosa le ha detto quale raccomandazione le ha fatto che che mandato ha ricevuto di che l'ex sempre quello che la grande preoccupazione papa di uscire e che anche la cei non viva per se stessa ma che la cei serva questo corpo così complicato anche ma anche bellissimo che è la chiesa che va dalla parrocchia più piccola del paese del posto più isolato alle grandi parrocchie delle città quindi una di una struttura snella che deve essere più snella e sempre soprattutto vicina a tutti vicino alla gente vicino in particolare a chi soffre quindi poi i giovani l'accoglienza grande altre grande preoccupazione e tutte le fragilità e quindi gli anziani e tutti quanti coloro che si portano nel proprio corpo o nella psiche tanta fragilità la sua presidenza arriva nel pieno del cammino sinodale della chiesa italiana e sono arrivati già i riscontri risultati del delle varie modalità di ascolto di credenti e non credenti che cosa sta emergendo e quali richieste arrivano ma direi innanzitutto emerge anche qui con chiari scuri con però una domanda di partecipazione di coinvolgimento di una chiesa che ascolti e si doti delle risposte efficaci alle tante domande che la pandemia poi ha ancora di più le pandemie hanno rilevato rivelato hanno generato e ci hanno affidato anche per certi versi quindi tanto senso di partecipazione nonostante il copito quindi tutti noi speriamo che questo cammino sinodale con il suo metodo di ascolto di attenzione verso tutti di narrazione si parla personalmente non si parla grandi discussioni non vogliamo fare le grandi discussioni sui principi non andiamo tanto lontano ma proprio partendo dalla propria esperienza ricapire quello che dobbiamo cambiare e le scelte che dobbiamo compiere tra i temi emersi dal percorso sinodale c'è anche quello delle vocazioni e soprattutto della formazione dei sacerdoti che cosa si può fare c'è consapevolezza c'è molta consapevolezza credo che sia stata l'assemblea più partecipata con moltissimi interventi molto molto sentita le vocazioni e la vocazione da cui poi le vocazioni compreso quella presbiterale penso che è una chiesa che che vive sempre di più la consapevolezza che il mangelo chiede di seguirlo rimette tutta la vita a proprio al servizio tutta e tutti e non è che ci stanno i pensionati a bologna l'espressione sono gli umarelle quelli che guardano i lavori sentenziano sui lavori criticano i lavori ecco siamo tutti ai operai no da da anni si usava l'espressione della chiesa in cantiere e c'è bisogno di tutti all'interno di questo c'è la la vocazione presbiterale e che è una bellissima vocazione e che quindi forse avrà certamente il la formazione di questo e una chiesa che viva la la vocazione delle comunità capaci di generare dei figli sicuramente tra questi servizi ci sarà anche quello presbiterale uno dei temi dei temi caldi all'ordine del giorno e quello degli abusi dall'assemblea sono arrivate delle indicazioni molto precise sul versante della ricostruzione della trasparenza molto precise io credo che una consapevolezza dobbiamo ringraziare tanto consiglio albaturino signora ghizoni tutta la commissione che ha lavorato in questi mesi tantissimo sia per elaborare delle risposte efficaci sia per creare una struttura per creare una rete quindi ci si è dotati in tutti quanti le diocesi di una commissione e in molte diocesi ancora non in tutte dei centri di ascolto la collaborazione con la dottrina della fede per capire la qualitativamente quanti quantitativamente il fenomeno il fenomeno dal 2000 al 2020 e questo qualcuno può sembrare dice no ma allora perché così poco e tanto e lì non si scappa mentre invece fare una cosa generica molto più evasivo oppure può diventare molto più giustizialista noi vogliamo affrontare seriamente il problema nessuno ha intenzione di opacizzare o scappare ma c'è bisogno di dati reali di un affronto serio e conseguente credo che questi già questi tanti anni da papa benedetto oggi ci danno una consapevolezza e anche già tante risposte anche ma già una certa esperienza la sua presidenza prende il via in un momento molto difficile per il paese le conseguenze della pandemia sul versante sociale sul versante spirituale e le preoccupazioni legate alle ricadute indirette della guerra crescono le povertà crescono le disuguaglianze che cosa oltre come dire a quello che è già stato fatto in termini di solidarietà che cos'altro può mettere in campo la chiesa e la chiesa deve rispondere perché sono tutti quanti figli nostri la chiesa vive la sofferenza dei suoi figli come vive la tragedia della guerra e quindi l'ansia della ricerca della pace come non accetterà mai l'ingiustizia come non accetterà mai anche che ci si dimentica perché c'è una ragione analogica delle emergenze poi l'emergenza scaccia l'altra emergenza e ovviamente la chiesa non si dimentica di nessuno penso per esempio al problema dei profughi che sono dispersi in mezzo al mare quel cimitero che quello che più che il mare nostro è diventato davvero il mare di nessuno e non mare di indifferenza e questo ovviamente non è accettabile quindi un grande sforzo e credo che la chiesa è davvero una ha una possibilità straordinaria perché la chiesa è una comunità nella pandemia la vera risposta è essere insieme e la chiesa con tutti i suoi limiti le sue difficoltà i suoi tradimenti le sue contraddizioni ma è una comunità e la chiesa lo sa che soltanto insieme se ne esce quindi nelle queste tante pandemie che si rivelano la chiesa ha la risposta e dobbiamo vivere di più questo senso di comunità e donarlo a tanti che spesso vivono da soli isolati nell'individualismo o nella solitudine rapporto chiesa istituzioni pubbliche a quali criteri sarà improntato il cammino dei prossimi anni il grande rispetto delle ruoli le competenze ripetendo dalla costituzione italiana che io credo nel vangelo non c'è dubbio di nostro signore gesù cristo non c'è dubbio ma vivono in un paese che c'è una costituzione che c'è una costituzione che è stata tra l'altro anche così fu che è frutto anche di tanta ispirazione cristiana credo che in un momento in cui usciamo dalle pandemie penso che sia un grande principio ispiratore di grandi valori su cui l'italia e l'europa può guardare con convinzione e con determinazione il futuro e prepararlo per chi deve venire un'ultima domanda in questi giorni televisioni e giornali hanno avuto buon gioco sui titoli don matteo dalla fiction alla alla guida dei vescovi italiani lei ha mai visto una di queste queste puntate e c'è in quel sacerdote qualcosa che ritrova nel suo esercizio ritrovo che chiaramente io io sono una controfigura il vero don matteo ovviamente è quello è quello della tendella televisione credo che perché il successo e perché in fondo sta in mezzo alla gente perché c'è relazione con tutti perché sa capire sa cercare la giustizia ma sa anche farlo con tanta attenzione per ognuno ma credo che insomma si direbbe in termini ciclistici è una mitira la volata ecco non c'è dubbio è un'ottima immagine di una chiesa in mezzo alla gente